Quando si progetta una cerchiatura necessaria per realizzare una nuova porta, una nuova finestra in un muro portante, ci sono alcuni aspetti che non dovete sottovalutare. Vi darò sei consigli, uno in ogni video. Consiglio numero 2 di 6. Verificate la posizione delle aperture già presenti ai piani superiori di inferiori rispetto a quello dove realizzerete il vostro intervento. Oltre ai sopralluoghi da effettuare ai vari piani, è necessario fare un accesso agli presso il comune, presso l'ufficio pratiche sismiche per controllare se sono stati realizzati nel passato degli interventi simili nelle altre unità immobiliari che potrebbero interessare la parete oggetto di intervento.